Amici, innanzitutto buona Pasqua! Oggi è una giornata stupenda, per cui è bella passarla in compagnia dei nostri migliori amici. Voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti alle manifestazioni Balletex fino a questo momento, quindi danzatori, coreografi, maestri e pubblico, soprattutto pubblico, grazie infinite. Ma la stagione non finisce qui. Due appuntamenti ci aspettano, il 21 maggio al Teatro Vigano di Roma e il 13 giugno, mi raccomando non potete mancare, al Teatro Olimpico di Roma, una grande festa di chiusura della nostra stagione. E allora mi raccomando il regolamento su www.valletex.com, vi aspetto e buona Pasqua! Grazie!